I rappresentanti dello Stato, delle forze borne e della magistratura è che la fase di contrasto da parte dello Stato nei confronti della criminalità organizzata della mafia è una fase avanzatissima. Io torno a questa missione con la consapevolezza che lo Stato è presente e rispetto al passato ha incentivato la capacità di contrasto ed ha una conoscenza del problema che probabilmente ormai come oggi ha avuto e c'è una qualità anche degli uomini in campo penso ai componenti del Comitato per l'Ordine della Sicurezza penso ai magistrati, alla procura sia di Agrigento che di Stato che ci fa ben sperare rispetto anche a molti interrogativi.